Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta sfoglia con le mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono pasta sfoglia rettangolare, mele tagliate a pezzetti, pinoli, confettura di albicocche, zucchero, biscotti secchi sbriciolati e cannella in polvere. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pinoli e li facciamo tostare per 5 minuti, 80 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere lo zucchero, la cannella, le mele e la confettura di albicocche. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 80 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo sulla pasta sfoglia sbriciolare i biscotti. Distribuire il composto con un cucchiaio su tutta la superficie della pasta sfoglia. Adagiare sopra l'altra pasta sfoglia. Sigillate bene i bordi. Effettuare i dettagli sulla superficie. Spennellare la superficie con lo sbattuto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La torta è cotta, lasciare intiepidire, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta sfoglia con le mele. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.